Botte e offese nei confronti della compagna di 43 anni di una bambina undicenne che aveva cercato di frapporsi fra i due. A mettere fine a questo ennesimo abuso commesso dentro le mura domestiche sono stati i carabinieri di Marotta, comandati dal luogotenente Antonio Barrasso. Dopo l'allarme lanciato dalla donna, i militari sono intervenuti a metà origlia di Fano. La casa da lei indicate era già conosciuta alle forze dell'ordine a causa di vari provvedimenti adottati dall'autorità giudiziaria nel corso degli anni. Il compagno infatti era già stato arrestato per fatti analoghi nel 2005, ma all'epoca lei aveva deciso di ritirare la querela, forse per timore o forse per dare una nuova chance a quell'uomo che era pur sempre il suo punto di riferimento. Si tratta di un 55enne romeno che, completamente ubriaco, alla presenza dei carabinieri ha continuato ad inveire verso la donna con nomignoli osceni e indecenti. La compagna invece, rifugiatasi in camera da letto, è stata ritrovata ancora abbracciata alla figlia, mostrando gli evidenti segni delle percorse ricevute. Recentemente l'uomo che aveva ancora le chiavi di casa con il consenso della donna era tornato a vivere con lei. L'ultima richiesta di aiuto risale ai primi di maggio. Mamma e figlia sono state medicate al pronto soccorso di Fano. Alla madre è stata diagnosticata una contusione cranica. Alla ragazzina, una contusione al polso destro. Lui è stato arrestato in flagranza di reato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali e condotto nel carcere di Pesaro.